Musica 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 Inizia in questo momento il secondo tempo della partita tra Senzamotivo e Jedimax Viaggi, risultato è per ora inchiudato sull'1-0 per i Jedimax detentori del titolo che si portano avanti con Sibilo sulla fascia, palla e rimessa laterale per Senzamotivo. L'Angelotti, palla a lungo linea ma troppo per il scompagno Maggesi e quindi sarà rimessa dal fondo, andrà Nani alla battuta, largo per Nicolilla. Nicolilla porta palla, poi palla a lungo linea, firma tutto Capitano Davino, sarà rimessa laterale per i Jedimax Viaggi. Lungo linea Nicolilla, palla giocata in avanti da Di Palma, Di Palma mette dentro, ribattuta da Assante, sarà laterale, andrà a battere, fa la messa in mezzo e Di Palma la tocca, fa praticamente un passaggio per il portiere. L'invio a lungo, Nicolilla mette elegantemente giù, serve il fratello a lungo linea, viene però anticipato dal compagno. La giocata dietro per Nani. Nani va a lungo in avanti, ci va tutto a Assante, poi Nicolilla, centrale, poi giocata dietro ancora. Nicolilla può avanzare, c'è spazio in avanti, rinvio, mette giù riso, però viene chiuso dall'Angelotti, si può ripartire con la palla, arrivata al centro per Bocchetti che rischia di perderla, attenzione, il parone sulla fascia sinistra, gioca Bocchetti, mette fuori, bello. C'è qualche problema per Riso, che rimane fuori, diciamo ironicamente il cambio, Palumbo, può andare alla battuta Riso. di questa rimessa laterale, dopo la quale chiuderemo il collegamento. Riso, palla in mezzo, chiude la difesa, spazza poi Maggesi, una palla per Nicolilla, stiamo con l'ultima azione per il collegamento. Nicolilla in mezzo, la palla che arriva comodamente tra le braccia di Bocchetti. Angelotti, fermato, che fallo, e quindi 6-0-1-0 per i Gedi Max, chiudiamo il nostro collegamento.